Assistenza specialistica agli alunni portatori di disabilità garantita fin dal primo giorno di scuola negli otto comuni afferenti all'ambito sociale S3. E il risultato raggiunto dal coordinamento dei sindaci di Eboli Campagna con Tursi Terme, Oliveto Citra, Siciniano degli Alburni, Postiglione, Serre ed Altavilla, Silentina, e tradotti in atti dal piano di zona S3. In attesa di espletare la gara di affidamento del servizio per il prossimo anno scolastico, la programmazione messa in campo ha consentito il recupero delle risorse necessarie per garantire agli alunni con disabilità l'assistenza specialistica nelle scuole fin dal primo giorno. L'ultimo anno ha visto l'assistenza garantita ad 87 alunni, ma sulla scorta di istanze già presentate il numero è destinato ad aumentare.